Oltre 5.000 metri quadri di abbandono e degrado nel cuore di Ostia Ponente. In via Mario Ruta, alle spalle di Piazza Gasparri, c'è un vecchio centro sportivo ormai in disuso che cade letteralmente a pezzi, al punto da rappresentare un pericolo per gli abitanti della zona. Tre anni e mezzo fa l'impianto è stato sequestrato per occupazione abusiva e altre gravi violazioni. Da allora non si è mosso più nulla. Eppure, come qualcuno ancora ricorda, tra gli anni 70 e gli anni 80, questo era un fiore all'occhiello per il quartiere e non solo. Questo circolo negli anni 80 è arrivato nelle vasi nazionali. Dunque qui c'erano dei campi da tennis, una piscina. Campi da tennis, piscina, c'era il campo di calcetto, erano più campi da tennis di tante, erano arrivati addirittura a un certo punto arrivare a 22 campi da tennis e poi si facevano anche i giochi senza frontiere all'estate, 600 soci, addirittura venivano giocatori dei tennis dalla Francia. Un anno vinse un francese qua a livello proprio di non classificato. Si arrivava pure alla Serie B nazionale. È stato importante anche se sempre nell'ambiente che si trova. Oggi è desolante. Io ho i genitori che abitano ancora qua. Tante volte quando vado a loro mi affaccio al balcone. Papà ha 82 anni, se vedeva le partite di tennis, se vedeva le partite di pallone, oggi è desolante. Sembra a stare a prima porta. Ecco, il tennis non c'è più, non c'è più il Morandi dove si giocava a calcio, non c'è più lo skate park. Il quartiere è privo di strutture dove praticare sport oggi. Ma adesso questa zona qua è arrivata a un punto in cui veramente i ragazzi non hanno strutture vicine, non strutture vicine. Bisogna andare o all'ossi amaro ai pescatori, ma qua strutture vicine dove inizialmente qua anche per divertimento era importante. Entro la prossima estate, poco distante da qui, dovrebbe essere realizzato il nuovo skate park del quartiere, annunciato ben tre anni fa dalla sindaca Raggi in occasione della sua prima visita ufficiale ad Ostia. Al momento gli abitanti della zona possono disporre soltanto della cosiddetta palestra della legalità per praticare attività sportiva, mentre per le discipline di squadra che sono maggiormente aggregative non esiste più nulla ormai da anni. Il territorio che deve ripartire come sbandierato in molteplici occasioni, da molteplici amministratori a molteplici livelli, è ancora fermo al palo.